Ciao ragazzi, siamo qua per capire finalmente chi ha vinto il concorso dove c'era in palio un ROG Flash Gels Combo Filter Kit ovvero un set di gel offerto dalla ROG Flash in cui ci sono dei gel sia quelli di correttivi quindi ad esempio il famoso CTO, mezzo CTO eccetera sia gel colorati di tipo chiamiamolo teatrale quindi non so rosso, rosa, azzurro colori che insomma servono per fare foto più di tipo teatrale allora per prima cosa il concorso è andato benissimo nel senso che non me l'aspettavo ma avete presentato veramente in tantissimi una foto e questo mi rende super orgoglioso perché vuol dire che siete veramente in tanti a fare le foto lampiste quindi super orgoglio da parte mia per tutti voi ho ricevuto 50 foto quindi 50 partecipanti chi mi ha mandato foto vecchie, chi mi ha mandato foto fatte durante la quarantena quindi devo dire veramente grazie grazie a tutti siete stati veramente bravissimi ma ora lo so che volete sapere chi ha vinto e tra poco ve lo dirò però una volta anche che ho detto il nome e magari non siete voi mi raccomando rimanete collegati perché ci sarà una sorpresa ok? il vincitore anzi la vincitrice del kit di gel colorati della ROG è Daniela Ongaro ebbene sì proprio te Daniela e adesso faccio vedere la foto a tutti e spiego perché secondo me sei la più meritevole di vincere Daniela prima di tutto ha realizzato un autoscatto quindi lei è stata sia fotografo che modella e non è assolutamente facile ve lo dico perché le ho fatti anch'io un bel po' di tempo fa e non è facile essere sia soggetto che fotografo e devo dire che ci è riuscita veramente veramente bene lo scatto mi è piaciuto tanto perché oltre a essere illuminato correttamente e adesso analizziamo anche come l'ha illuminato mi ha trasmesso veramente tanta tanta emozione perché sarà la posa drammatica sarà il viso coperto da questo velo e non lo so l'insieme mi ha trasmesso un'emozione di drammaticità che mi ricorda tantissimo Brooke Shaden non so se la conoscete è una fotografa stra famosa e vi invito assolutamente ad andare a vedere il suo sito con i suoi scatti perché Brooke Shaden soprattutto agli inizi faceva praticamente solo autoscatti esattamente come quello che ci ha fatto vedere Daniela in questo momento Brooke Shaden all'inizio faceva scatti in casa di se stessa poi è passata a farli in esterno però sono sempre molto molto drammatici sempre di lei ultimamente poi ha cominciato anche a fotografare persone esterne ma il grosso delle sue foto sono di se stessa e Daniela in questa foto mi ha ricordato tantissimo la Brooke Shaden degli inizi quindi diciamo che l'emozione che mi ha provocato è stata veramente veramente grande il viso che non si vede a mio parere è molto molto interessante perché appunto trasmette questa drammaticità aggiuntiva alla foto oltre alla posa che è veramente veramente dinamica e per quanto riguarda la luce devo dire che Daniela se l'è cavata benissimo perché veramente con un setup minimale è riuscito a ottenere una luce veramente interessante perché abbiamo sul lato destro un softbox da tra l'altro anche piccolino un 60x60 e dall'altra un riflettore dalla parte sinistra un riflettore quindi setup veramente iper semplice ma a mio parere molto molto funzionale perché funziona bene con la foto che ha realizzato con la drammaticità che voleva trasmettere quindi complimenti a Daniela per la foto realizzata complimenti per aver vinto ti contatterò per chiederti l'indirizzo per inviarti questo però non scappate non scappate perché ve l'ho detto ci sono delle novità prima delle novità analizziamo delle foto che secondo me sono meritevoli di menzione la prima foto meritevole di menzione a mio parere è quella di Ravi Peiris non so pronunciare il tuo nome veramente è Warnakala Surya Ravi qualcosa del genere comunque Ravi ok che ha realizzato una foto di sua figlia a mio parere estremamente elegante veramente veramente delicata bella elegantissima con sua figlia con intorno tutti questi libri aperti che sta leggendo Jules Verne con Viaggio del mondo in 80 giorni veramente complimenti Ravi sei stato in finalissima perché secondo me la tua foto è veramente ben realizzata ok quindi complimenti per lo scatto realizzato un'altra menzione va a Fabrizio Soletta per lo scatto realizzato perché a mio parere era veramente interessante infatti vediamo questo scatto in cui c'è un flash dall'alto che quindi dall'alto da qua così mi sembra di ricordare in un beauty dish che illumina la parte superiore e un flash dal basso che illumina le pagine dei libri e quindi va a dare quell'illuminazione che arriva dal basso lo scatto è molto drammatico molto bello a mio parere l'unica cosa l'unica nota che veramente stonava ma gliel'ho già segnalato Fabrizio lo sa già l'unica cosa che stonava a mio parere è quella luce molto molto forte nella parte destra dell'occhiale se fosse riuscito a controllare la luce come l'ha fatto sulla parte sinistra a mio parere sarebbe stato uno scatto praticamente perfetto perché poi c'è il personaggio all'interno di questo scuro totale con la faccia che esce, le mani che tengono il libro è veramente veramente bello come scatto l'unica cosa stonava un po' quella luce molto forte nell'occhiale che a mio parere andava controllata meglio a parte ciò comunque veramente complimenti sia per la fantasia di illuminare il libro sia per lo scatto realizzato che comunque è assolutamente degno di nota un'altra menzione va a Stefano Venneri che ha mandato questo scatto e ci ha tenuto a dirmelo che il cielo non è finto cioè non è stato aggiunto in post produzione in post produzione è stato ovviamente molto esaltato e questo siamo tutti d'accordo però non è finto era veramente così quindi veramente complimenti Stefano perché uno scatto del genere ad una coppia in un'ambientazione simile con un cielo così uno non so quando ti capita ma mi hai detto che in realtà dalle tue parti capita spesso di avere dei cieli del genere però a parte questo veramente interessante la fusione dei due personaggi che sono stati illuminati con un flash e con il resto dell'ambiente gestito veramente bene a livello di esposizione quindi complimenti Stefano perché veramente tra gli scatti a colori probabilmente il tuo era tra i più belli in assoluto un'altra menzione va ad Alberto De Cecchi che ha pubblicato questa foto di sua figlia che come vedete è stata illuminata da destra e da sinistra non mi ricordo più mi sembra con un softbox da una parte e un ombrellino dall'altra o il contrario comunque o due softbox comunque sia due luci una destra e una sinistra con un fondale casalingo devo dire complimenti perché riuscire ad avere un'illuminazione corretta con una bambina nell'esatto istante in cui sta per prendere una bolla che quindi sta per esplodere ci va un tempismo per fare una foto del genere che a mio parere non so quanti tentativi hai fatto però devono essere stati veramente tanti almeno poi magari a volte capita la botta di fortuna però veramente complimenti perché cogliere l'esatto momento in cui la bambina sta per prendere la bolla è veramente veramente bello tra l'altro con un'illuminazione corretta ok l'unica cosa che gli ho già fatto notare è che a mio parere ci andava un po' più di respiro nella parte in basso perché i piedi sono proprio a contatto con la parte inferiore del frame ma è una nota ok niente di più capisco che fare una foto del genere con una bambina non deve essere assolutamente facile e in ultimo una menzione per il miglior backstage il miglior dietro le tendine per Mattia Canclini perché ha mandato un backstage che veramente ragazzi non so quanto lui probabilmente è già molto bravo a utilizzare i modelli 3D ci mancherebbe per fare una roba del genere però devo dire assolutamente ha mandato un backstage fatto con un 3D quindi non so quale sia veramente veramente bello in cui c'è il ponte c'è la modella con la posa esattamente come l'ha assunta lui una luce di qua una luce di là poi c'è addirittura cioè ha il 3D del softbox della luce utilizzata del riflettore veramente complimenti per il backstage che hai mandato ti invidio tantissimo perché tu riesci a fare dei backstage del genere e in ultimo lo so che avete aspettato questo momento la sorpresa e la sorpresa è questa ovvero che oltre a questo kit di gel che mi è stato mandato dalla ROG io non ve l'ho detto subito perché altrimenti non vi impegnavate me ne è stato mandato anche un secondo sempre da dare come premio esattamente identico ok quindi partirà un secondo contest molto a breve preparatevi perché ho già più o meno in mente il tema devo solo rifinirlo un pochino perché entro fine settimana lancerò un nuovo contest per vincere il secondo kit di gel della ROG ok detto questo nei prossimi giorni analizzerò farò una critica ovviamente non estremamente lunga una critica rapida perché sono 50 foto farò una critica delle foto ricevute quindi se siete tra le persone che avete mandato la foto troverete online a giro di qualche giorno perché è un video ovviamente un po' più lungo che va realizzato con i dovuti tempi una critica delle foto che ho ricevuto in cosa potete migliorare in cosa invece avete fatto bene spero che possa essere d'aiuto a voi che avete realizzato le foto ma anche a tutti gli altri che stanno guardando questo video non hanno partecipato però la critica delle foto altrui a mio parere è sempre molto molto utile perché aiuta a migliorare se stessi ora sapete benissimo che io non sono un fotografo strafamoso quindi potrei anche dire delle cose che magari non condividete però è giusto sapere anche delle critiche di altri fotografi che magari la pensano diversamente da voi perché poi ci si ragiona e magari si riesce anche a migliorare spero vi faccia piacere questa cosa prenderà tantissimo tempo fare il video della critica però ci tengo a farlo dovete solo darmi il tempo di realizzarlo ok quindi ci vediamo prossimamente per la critica delle foto ricevute per il lancio del nuovo contest per vincere il secondo kit di gel della ROG e basta a posto così vi saluto e ancora complimenti a Daniela per aver vinto il kit di gel ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti